Ciao amici! Siete pronti a fare i picottini con me? Prepariamo i tantucci! Con la farina sacciamo una fontanella ci mettiamo lo zucchero e le uova impattiamo ci aggiungiamo il burro ci aggiungiamo il burro ti aggiungiamo il burro sono найдute broughtiamo il burro mittacchi cerchiamo due salamini ecco fatto ci fermegliamo un po' di uovo iniziamo in forno ecco fatto adesso li tagliamo li rimettiamo così come il muto in forno ecco i miei cantucci grazie per i like un bacio da Sefa Allora